Good morning Milano, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti, 7 e 14, mercoledì 11 settembre 2024, siamo qua pronti a partire con una nuova puntata di Good Morning Milano, sempre in diretta su Crystal Radio, ma questa mattina non sono solo, ho quasi, come vuoi dire, potremmo chiamarlo quasi un fratello? Non siamo soli nell'universo. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio, e portiamo tutte e due gli occhiali da sole. Vai! Vai, Ambrogio Curti! Vai, ciao, 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 abbiamo iniziato con la Blues Mobile. Eh sì, sì, siamo come loro questa mattina. Gli occhiali da sole li ho, infatti, chi ci sta seguendo in questo momento su YouTube può vedere che hai anche gli occhiali da sole. È un effetto un po' particolare perché non vedo niente, assolutamente niente. Penso che anche Jack e Delwood Blues non vedessero molto durante... Assolutamente. Buongiorno! 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 Allora, Ambrogio, come stai? Bene, bene, molto bene. E i nostri ascoltatori cosa hanno fatto quest'estate, se non c'eri? Ce lo racconteranno, credo, al 331-7853-555. Ambrogio Curti, per quei pochi distratti che non lo sapessero, è il conduttore e ideatore Deus, ex macchina, di Senti Questa, che arriva appunto dopo di noi tutti i giorni, giusto? Dopo di voi, sì, esattamente. Quindi io non ho mai smesso quest'estate. Eh no, infatti sono andato tutta l'estate, esattamente. Ho proceduto, ho proceduto, ho processo. Tutta l'estate, con la grande musica, l'hai raccontata, poi tu racconti dissimi aneddoti, spieghi un po' quello che c'è tra le righe, tra le note dei vari artisti di cui racconti. Perfettamente, anche per far scoprire cose che non sapevo neanche io. Ma insomma, adesso poi ce lo racconterai meglio durante questa trasmissione, durante questa puntata, durante questa mattinata, che poi appunto sta per arrivare la nuova stagione di Senti Questa. Ma adesso arriva lui, il boss, il boss con Born in the USA. Bruce Springsteen, Born in the USA. Ed ecco, quando a un certo punto sembra che sta per finire, invece poi riparte con questo riff. Poi è una caratteristica sua anche dal vivo, continua, continua. Continua, questa qui è un po' la sua ejude, no? Può portarla avanti per ore e la gente non direbbe nulla. Assolutamente. Poi questo brano ha un pathos incredibile. Io ho avuto l'occasione di sentirlo. Di suonare insieme a Bruce Springsteen. Sì, 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 il triangolo. Il triangolo no, che dopo... Sì, 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 infatti. Di sentire questo brano alla Maratona di New York. È una cosa incredibile, perché alla Maratona di New York suonano, lungo il percorso ci sono complessi bravissimi, che suonano tutto il repertorio tipico americano. E in Central Park, all'arrivo, io non ero un... Mi stavo preparando questa domanda, infatti. Mi stavo preparando questa domanda. Ero un osservatore. Ok. Però è stato emozionante, perché alla Central Park, che aspettano i miei amici che stavano facendo la Maratona, a un certo punto... I bravi. Esatto. Quando appunto entrano in Central Park c'è questa mega orchestra, una specie di The Blues Brothers Band, che suona tutte queste canzoni qua. Cosa incredibile. Hai fatto bene a citare New York, perché oggi ovviamente è l'11 settembre, quindi non possiamo non ricordare la canzone, infatti l'avevo voluta mettere un po', anche per fare un ponte con gli Stati Uniti, un ponte con New York. Anzi, anche tu poi ci stai raccontando di questa esperienza alla Maratona di New York, ma non hai pensato poi di fare anche la Maratona? No, ti sei namorato? Assolutamente no. Quello è il giorno in cui hai deciso che tra la Maratona e la musica hai scelto la musica? Assolutamente. La musica l'avevo scelta, ma soprattutto ho deciso di che non farò mai una Maratona. Quando vedi la Maratona decidi o la fai anche te oppure non la farai mai. È una roba da masochisti. Vedi delle scene incredibili all'arrivo, per uno che non sa come funziona il tutto, gente che sta male, gente che si fa trascinare. In realtà tu però una Maratona la fai ormai da anni, da mesi, perché insomma questo senti questa non si ferma mai. Senti questa è una trasmissione un po' Maratona, come dici tu, ma soprattutto è un approfondimento mio al quale faccio partecipare anche gli ascoltatori, perché io facendo le ricerche, diciamo, sui brani che propongo, imparo delle cose. Apprendo cose che ai tempi, negli anni, quando ero piccino, negli anni settanta, non avendo la possibilità, va bene, non c'era internet ovviamente, ma c'era anche poca possibilità di informazione. Adesso saltano fuori tutti gli altarini, le curiosità, le cose. Allora sguazzo in queste cose e le ripropongo, anche perché c'è bisogno di far vedere un po' come era il panorama musicale italiano in quel periodo di grande creatività, che è fine anni sessanta, anni settanta, e sembra sparito completamente quel mood, e quella, diciamo, quell'atmosfera. Ieri, pensa, ieri abbiamo andato in onda Milano-Vincenzo, no? Che racconta proprio di come Fortis, appunto, scritturato la case escografica, messo in panchina però, perché facevano così, scritturavano, poi ti metterlo lì così, lui diceva, no, io voglio farlo. Adesso invece, anzi, ti vengono a raccattare sui social, ti fanno fare un brano e poi non è detto che te ne faccia fare un secondo. Sì, soprattutto, prima c'era una gavetta, c'era addirittura suonavi per strada, eccetera, eccetera, eccetera. Pochi erano infortunati che arrivavano, però che arrivava... Un nome per tutti, Lucio Battisti, ecco, per dire. Beh, gli ultimi che hanno suonato per strada, che sono arrivati, Maneskin. Loro hanno iniziato suonando per strada, cose di cui. Ho avuto anche l'onore di vederli, non sapendo che erano loro. Ieri mi è venuto invece qui Cecilia Riemer, che anche lei è una ragazza qui di Milano che suona per strada, beh, gli facciamo l'augurio che, appunto, suonando per strada, qualcuno, qualcuno si accorga di lei e gli dia lo spazio. Piazza Piemonte, l'ho vista. Bravissima, proprio lì, proprio lì, proprio lì. Olly, Angie Lamango, con una delle ultime canzoni del duo, giusto? Beh, mi confermi, infatti, queste sono le hit che mettiamo, Ambrogio... Lamango. Lamango. Allora, a me non era molto simpatica quando è uscita. Poi, invece, sui social, lo vedo con sua mamma in macchina, fanno un po' di cinema, un po' di... E adesso mi è abbastanza simpatica. E mi sembra una bella tosta, soprattutto. Sì, sì, molto. Cioè, bella, molto giovanissima. Io alla sua età, credo, mi mettesse in quello di tre del naso, cosa che faccio anche dai fuori onda adesso. E non solo, e non solo. Non solo, ma, cioè, lei invece è veramente... Sì, è vero bene, ma... Cioè, già fatta, cavolo, cioè... Penso tutti, tutti i giovani oggi... Ci danno la... Tutti i giovani sono... Sono avanti, avanti, ma avanti anni luce. Ogni riferimento a Beatrice in regia è puramente casuale. Esatto. Più che salutiamo... Sì. Beatrice, che facevo il conto, ad esempio, noi prima parlavamo dell'11 settembre, Beatrice, tu non eri neanche nata quando è successo l'11 settembre. No, davvero? Sì. Perché stavo chiedendo... Adesso ti dico una cosa... Cosa stai facendo l'11 settembre? Niente. Ma è un'aria... Soprattutto, non c'era qua... Cioè, tu, Ambrogio, hai fatto il muro di Berlino. Assolutamente sì. Poi, l'armistizio. Hai fatto... No, l'armistizio no. No, magari no. No, vabbè. Diciamo che ero piccino, purtroppo, io sono nato negli anni sessanta, purtroppo, meno male, ecco, da un certo punto di vista, però, purtroppo, ho visto cose... Ho partecipato, sono stato contemporaneo a eventi negativi, gli anni di piombe, eccetera. Dopodiché ci sono stati anche gli eventi positivi. Assolutamente. Però noi ci crediamo sempre... L'essere umano tende a ricordarsi solo quelli negativi. Purtroppo sì. Per me è quello. Però noi ricordiamo... Oggi non possiamo ricordarlo. Tu hai visto la nascita di Vasco Rossi, ad esempio. Musicalmente parlando hai visto la nascita di Vasco Rossi. Sì, sì, sì. Addirittura non era proprio nessuno. Non era proprio nessuno. Abbiamo visto Renato Zero. Renato Zero. Parlando in ambito italiano. Perché Vasco Rossi non era italiano. Sì, no, no. Parlando in ambito... Stavo per dire che... No, volevo capire se... Vasco Rossi. Infatti volevo capire se... No, i Beatles. Ah, i Beatles. Io non ho vissuto... Io no. Perché sono nato proprio... Avevo otto anni quando hanno finito. Te l'hanno fatto opposto. Dico, eh, arriva Brogio. Oh, dai, sciogliamoci. Esatto. L'ha detto io. Ioco ha detto di scioglierci. Era più liofilizzata la cosa. Cioè c'era un gruppo, tutti avanti con sto gruppo. Beh, sì. Eh, poi hanno cominciato a inflazionarsi con gli anni Ottanta. C'erano più di uno, due, tre, cinque, sei gruppi. Spandau, Duran Duran. Sì, sì, sì. Quelli lì erano i clou. Sì, ma poi c'era tutto un entourage. C'erano tutti quelli con il ciuffone. Sì, assolutamente. E quelli che mettevano il sax nelle canzoni. Perché... Sax. Cioè, la cosa del sax... Anni Ottanta c'è il sax. Sax ovunque. La tromba, invece, anni Sessanta. Poi c'è stata una ripresa, soprattutto nella disco, usata negli anni Duemila, però il sax era anni Ottanta. Anni Ottanta. Quella roba lì, quando senti un sax capisci come l'epoca musicale. Lo sento anche nelle playlist, quelle che si propone. Come sentire un clavicemmo nella musica medievale. Cioè, il concetto è lo stesso, no? Molto, molto, diciamo, spensierato il sax. Ah, vedi, ecco. C'era bisogno di quello. Beh, erano gli anni dove c'era bisogno di... Penso che qualcuno si sia messo a studiarlo ai tempi. Solo che è difficile studiare il sax. Perché incomincia a vibrarti, perché c'è una piccola lancia, ti vibra tutto il labbro inferiore e dopo non riesci ad andare avanti. È una cosa incredibile suonare il sassofo. Io ho provato, ma praticamente... Ho imparato una volta con la tromba, ma so che è leggermente diversa. Lì è il discorso di fare pernacchie, di fare pernacchie con la bocca. Tipo Paolo Conte. Ecco, perché imparare a suonare la tromba quando puoi avere Ambrogio Curti... Che tromba in diretta. No, ma no! No, che tromba in diretta. Che fa la tromba in diretta. Sono le sette e mezza del mattino. Che tromba in diretta. Vabbè, facciamo una cosa. Mandiamo gli Abba, che rendono tutti sicuramente più felice. Vulevu, vulevu, vulevu. Che non è quella lì, vulevu. No, è un'altra. Non è quella lì, non è quella lì. Renato Zero con il triangolo alle 7.41 minuti qui su Crystal Radio Good Morning Milano. Il triangolo che c'è tra me, Ambrogio Curti e i nostri ascoltatori. Assolutamente. E' un pentagono, un esagono, un tetraedro, un ennagono. Un ennagono. Un ennagono. E queste erano le canzoni trasgressive di quei periodi, diciamo, negli anni 70. Erano quelle che mandavano fuori di testa la Rai, che non sapevano come fare. Sì, sì, infatti, ricordiamo, mi ha ricordato il mio carissimo amico Emilio, che ci sta ascoltando. Eh, cosa dice Emilio? Che ho vissuto le radio libere. Nascevano le radio libere. E ora ci lavori su, su una radio libere. Esatto. Diciamoci che Crystal Radio è forse l'ultima delle radio libere esistenti. Sì, penso di sì, perché è nata negli anni 80. Ma negli anni 70 pendavamo proprio, eravamo con la bava alla bocca, alla radio con l'orecchio fisso. Perché per noi era internet, era whatsapp, era tutto. E quando mettevano queste canzoni, che la Rai non metteva, chiaramente era un momento anche di trasgressione, di rivincita, non so, di cosa possiamo definirla, questa atmosfera. Comunque è bellissima. Di sentirsi insieme. Sì, insieme è sempre da scoprire, insomma. Allora, ringrazio che ci stai scrivendo i whatsapp. Chiedo scusa, perché abbiamo un piccolo problema tecnico sul computer dei whatsapp. Allora c'è qualcuno che mi ha scritto e mi dice, ma scordami, vuoi leggere i whatsapp che ti sto mandando da due giorni? Alcuni arrivano, alcuni no. Abbiamo un problema. Che bello, il problema tecnico, tipico delle radio libere. In settimana vado a sistemare sto computer benedetto su cui abbiamo il whatsapp e lo mettiamo a posto. E quindi, grazie ad Alberto che ci scrive, dice un saluto a Fabio, a Ambrogio e in un bocca al lupo a tutte le ragazze e i ragazzi che oggi iniziano la scuola. Sì, perché tra oggi e domani iniziano, giusto? Io lo sapevo domani, le superiori credo iniziano domani, oggi le medie hanno già iniziato. In realtà ieri qualcuno ha già iniziato, anche ieri, insomma, tutto un po' così. E è un problema vostro! Non nostro, giusto. Poi Adriana, che lamentava il fatto di me, vuoi leggere i messaggi che ti mando? Scusa, sono tra quelli che non sono arrivati. Che dice però, che musica frizzante questa mattina? Renatone a prima mattina e tanti cuori, credo per Renatone soprattutto. Sì, 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 assolutamente. Stavo dicendo appunto che tra le canzoni di Renato Zero, un po' trasgressive, c'era anche Baratto. E questa non la conosco. Baratto la faremo ascoltare. L'ho già fatta ascoltare in Senti Questa, un testo molto intenso. E parla del Baratto proprio. E negli anni 70, insomma, Baratto ma a livello umano. Ah! Sì, 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 è una cosa molto molto particolare che avremo modo di sentire sulle nostre frequenze. Senti Questa esiste proprio per questo, proprio per questo motivo. Cioè, far sentire magari di Renato Zero conosciamo 3000 canzoni, quella magari non la conosciamo. Tu la vai a scovare, la vai a raccogliere, la vai a raccontare. La rispolvero, possiamo dire. Possiamo dire la rispolvero e cerco di sviscerare quello che magari negli anni addietro non si sapeva. E può rinascere. Del resto certe operazioni sono state fatte anche da DJ attuali che hanno preso vecchie canzoni e le hanno fatte rivivere in maniera dance. Però, ecco, io le faccio rivivere facendole riascoltare e soprattutto spiegando un po' quello che volevano dire nel testo. Perché Renato Zero, tanta roba, tanta roba. Anche perché i testi di una volta non erano poi così espliciti. C'erano una volta dei giri di parole. Sì, giustamente. Dei volipindarici per cercare di… Non solo come la musica trap che è molto esplicita. Non solo. Pensa, la prossima che va, Tony F. Gaia, titolo, Sesso e Samba. Samba, impensabile. Esatto. Tra l'altro… Già Samba non andava bene. Soprattutto mi viene in mente un'immagine. Fare il trenino e fare Sesso. No, vabbè, vabbè. Sono sempre le 7.40 del mattino. Tony F. Gaia, Sesso e Samba. Scusa, al mattino queste canzoni. Cioè, sono bellissime, sono stupende, mi piacciono tantissimo. Però, allora… Stavo pensando come si sarebbe chiamato… Sì, sono un po'. Ma sai che i ragazzi adesso questa qui, al posto di Cristina D'Avena, l'ascoltano? No, ma è l'orario, no? È l'orario. Stanno andando a scuola per il primo giorno di scuola. Stanno andando a scuola per il primo giorno di scuola e ascoltano questa roba qua, capito? Fa che non sono così. Sesso e Samba che, se fosse stato il 65, sarebbe stato, non so, Coccole Liscio? Cocco e Sì. Cosa così? Come sarebbe stato? Sì, e Sesso, droga e… A parte la droga, rock and roll, eccetera. Sì, è una… Sì, beh, ci sta. È l'ora, è l'ora più che altro. È l'ora. Non sono neanche le otto. Allora, noi diamo… Cosa ci aspetta nella nuova stagione di Senti Questa? Allora, un po' l'ho anticipato, nel senso che farò molto a più musica italiana. Ok. Quindi cercherò su, diciamo, un 80% di musica italiana, soprattutto nel periodo 65-75, fine anni 70. Ok. A riscoprire i cantautori, o comunque gli autori che Battisti si può considerare un cantautore, anche se in realtà i testi li scriveva mogol, però diciamo di tutto il periodo che va proprio dalla influenza della musica internazionale americana, soprattutto, in quella italiana, dove i cantanti inglesi venivano in Italia e cantavano in italiano. Cioè, abbiamo fiori di nome, a parte Sanremo, ma ci sono proprio collaborazioni incredibili. Gli Hollis che cantavano con Mino Reitano, cioè cose… ecco, tutto questo, diciamo, clima… Cioè, Fedez con la Bertè non si è inventato niente, mi stai dicendo? No. C'era già questa cosa? Fedez dovrebbe cantare con i Rolling Stones, cose che, peraltro, i Morning Skin più o meno hanno fatto. Però, diciamo, stiamo vivendo tutto questo periodo in SentiQuesta, cercherò di farlo rivivere e quindi molta più musica italiana, un po' meno straniera, che comunque rimane sempre un punto fisso, soprattutto quella inglese, che mi piace molto. Tra parentesi, musica quella lì italiana di quegli anni lì che sta tornando anche… perché adesso non so se hai visto la nuova operazione della canzone di Donnella Vanoni in Sant'Allegria, hanno rifatto il remix, sta spaccando su TikTok, è un trend. Questa è una dimostrazione che, comunque, quelle che erano le voci, i protagonisti, che Donnella Vanoni ha più di 80 anni. Quindi stiamo parlando di cantanti dell'epoca che si sono svecchiati da un punto di vista musicale, però quando c'è la qualità, rimane la qualità e si sente. Quindi, a parte il discorso dell'autotune, eccetera, che un po' sta entrando anche tra i cantanti che cantano bene, però non hanno magari più questa gran voce, quindi può dare un aiutino. Però, diciamo, quel periodo con quei cantanti, che purtroppo anagraficamente molti non ci sono più, però quelli che sono rimasti si vede, insomma, il fatto della qualità che riemerge, ed è giusto, una cantante, una professionista come Ornella Vanoni, che si rimette in gioco e fa conoscere un po' quello stile, perché rimane comunque lo stile, cioè è tutto svecchiato, però rimane assolutamente. C'è una voce, io l'ho sentito, adesso poi anche Umberto Tozzi, tra l'altro, che ho visto in concerto poco tempo fa, anche lui uscirà con nuove canzoni. Grazie allora, Maggio, anche per questa dritta. Emi McDonald, dal 2007, This Is The Life, ti piacere, eh? Il video, con le galline, c'erano le galline nel video, penso un po'. Ambrose, se mi arriva la fine. Io ti ringrazio per avermi invitato qua in questo bellissimo studio, che tra l'altro mi invito, venite qua, assolutamente, fate la coda, entrate, è bellissimo, cioè sembra di essere a Las Vegas. Va bene, non ci sono le slot machine. Bellissimo, è stupendo. Ti ringrazio, mi raccomando, appuntamento, senti questa. 9.05, dopo di noi. Di giorni, da lunedì a venerdì, alle 9, dalle 9, 9.05, fino alle 10. Perfetto. Grazie mille, Ambrogio Curti, ci sentiamo presto allora. Ciao a tutti. Sempre qui su Cristal Radio. Ciao, ciao. Andiamo avanti con la musica, e poi giornale radio, e poi torniamo qui con voi, perché stanno arrivando altri ospiti. Adesso Outcast con EIA.